ciao ragazzi bentornati in lab nuova puntata di 3mdf dritti al punto oggi vediamo come realizzare al banco fresa un incastro angolare dente canale una sola fresa utilizzata una sola regolazione con un metodo abbastanza semplice e rapido da realizzare ideale per fresate in serie e in generale per la creazione di cassetti pronti vamonos prima di partire con le lavorazioni due parole su questo tipo di incastro è un incastro maschio femmina che permette un'aggiunzione angolare a 90 gradi come in questo caso il maschio formato da un dente che si incastra in una scanalatura presente nell'altro pezzo che svolge la parte della femmina per farvi vedere qual è il metodo che utilizzo per realizzare questo incastro utilizzerò degli scarti da 15 mm però è un metodo applicabile anche a spessori maggiori o per prima cosa scelgo una fresa che si adatti bene allo spessore che sto utilizzando in questo caso 15 mm utilizzo una fresa da 8 e cioè circa metà dello spessore dei pezzi montiamola con l'aiuto di un righello imposto l'altezza a circa anche in questo caso la metà dello spessore dei pezzi ok ci siamo e ora regolo la battuta in modo che il tagliente esterno della fresa cada perfettamente a 15 mm dalla battuta a questo punto sono pronto per la realizzazione della parte femmina della scanalatura nel primo pezzo lo appoggio sul banco e freserò in questa direzione cuffie e via e questa è la prima parte dell'incastro la parte femmina ok ora arriva la parte più delicata delle lavorazioni in particolare devo creare il dente sul secondo pezzo e per fare in maniera precisa senza dover spostare le regolazioni mi affido alla matematica ho un pezzo da 15 mm la fresa è da 8 per realizzare un dente esattamente da 8 mm devo spostare la battuta di 8 mm al posto di regolare la battuta e quindi dover fare probabilmente un paio di aggiustamenti prima di trovare la posizione esatta mi sono procurato un pezzo da 8 mm di spessore che appoggiando e fissando la battuta mi garantisce al primo colpo di trovare la posizione corretta provare per credere ora quindi faccio la fresata sul secondo pezzo e in particolare questa volta lo devo presentare verticalmente in questa direzione vediamo subito come è venuto veramente molto al millimetro direi che è venuto davvero molto preciso è un incastro molto robusto e la cosa bella di questo metodo è che ora potrei levare lo spessore che ho attaccato alla guida laterale e procedere già a realizzare lo scasso per il fondo senza dover spostare le regolazioni è un incastro come dicevo ideale per la realizzazione di cassetti io infatti lo sto già utilizzando e qua ne vedete le prove vedrete il video di una cassettiere infatti per il banco del tornio prossimamente nel caso in cui vogliamo utilizzare questo incastro appunto per realizzare i cassetti dobbiamo tener conto di fare la fresata femmina sul fianco in modo che l'incastro faccia resistenza quando tireremo il cassetto infatti tirando il frontale ci sarà il dentino a opporre resistenza inoltre facendo la fresata femmina sul fianco la fresata che riguarda l'inserimento del fondo non si vedrà si vedrà la fresata frontalmente ma tanto la nasconderemo con un falso frontale e quindi secondo me un incastro veramente molto valido da utilizzare con questo metodo per fresata in serie per la realizzazione di oggetti in serie come in questo caso dei cassetti è un incastro che si può realizzare anche al banco sega a fronte però di un dispendio di tempo maggiore per oggi è tutto spero di essere stato chiaro nelle spiegazioni se ci fosse qualche dubbio ci sentiamo nei commenti vi ricordo che domani uscirà il video sul canale di morgan terza puntata del banco da falegname analizzerà il montaggio delle morse e tutti i sistemi di fissaggio noi invece ci vediamo qua sul canale sabato 18 aprile con la quarta e ultima puntata di questa miniserie dedicata al banco da falegname e in particolare analizzeremo la finitura che ho dato all'intero banco per non farci mancare nulla si è inserito un appuntamento ultimamente ci vediamo giovedì 16 sul canale di morgan per una live tra me e lui dove potremo analizzare argomenti relativi alla falegnameria e anche in particolare sul banco da falegname per oggi è tutto se il video ti è piaciuto dagli al mi gusta qua ti lascio la playlist con tutti gli episodi relativi a tre minuti di falegnameria se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video in seguito i sogni e hasta luego